Un'altra panoramica, sempre dell'allenamento che si sta tenendo adesso, venerdì 29 settembre. Qua abbiamo il gruppo dei Pulcini, c'è il mister Nicola Di Cambli, in questa parte del rettangolo di gioco. Se notate bene abbiamo le reti nuove nelle due porte, sono state montate ieri mattina, con l'intervento di conservazione, il manto erboso qua sta ritornando in condizioni ottimali. Adesso bisogna stare attenti a preservare l'integrità del manto erboso. Questo è il gruppo dei esordienti di mister Giuseppe, si sono divisi i compiti in quanto è nutrito il gruppo. O dall'altro lato c'è Simone Giordano con l'altro gruppo di esordienti. Qua invece sono i Pulcini di mister Giulio Massimini. Non fate caso se ci sono tenute diverse e non da quelle societarie nero-azzurro, ma dipende dal fatto che ancora non vengono distribuiti i kit e chi non porta la divisa ufficiale e per il fatto che sono nuovi, sono di quest'anno. Ecco abbiamo mister Simone, qua in fondo c'è il gruppo dei piccolini. Oggi mancano solo i ragazzi di mister Antonello Ucci, i più piccoli quelli di 5-6 anni e ovviamente mancano anche i ragazzi, quelli più grandicelli del settore giovanile, giovanissimi e allievi che si sono allenati ieri al Campovecchio di Via Nazionale. Qua abbiamo il gruppo di Mancini Francesco e della nuova arrivata Mister Anna Valente. Qua stanno i piccolini, a quest'altro lato, sempre i ragazzini di Mister Gabriele, nostro coordinatore. Ecco, una bella panoramica del Manderboso di Via Olimpia, un gioiellino da tenersi a cura in quanto in tanti comuni non hanno un impianto come il nostro. Questo è il gruppo degli esordienti, di Mister Giuseppe Gian Cristoforo e Simone Giordano. Qua abbiamo il nostro consigliere Adriano. Grazie mille. Grazie mille.